Tutelare salute e lavoro, un obiettivo duplice, che alla base dell'azione messa in campo dal consigliere comunale di Salerno Arturo Iannelli, il presidente della Commissione Ambiente, nei giorni scorsi ha incontrato la proprietà delle Fonderie Pisano per affrontare il delicato tema legato allo stabilimento di Fratte. Sono stato in fabbrica, ci siamo fatti una chiacchierata relativamente alla questione della delocalizzazione della fabbrica, relativamente a quello che può essere il nostro ruolo come amministratori da fare da arbitri in questa disputa ormai ultradecennale e quindi fare in modo che finalmente forse si avvia un processo di pacificazione e contestualmente anche il processo della delocalizzazione. La fabbrica va spostata, non può restare dove sta. Insieme alla famiglia Pisano si è deciso di organizzare una riunione della Commissione Ambiente all'interno dello stabilimento, ma Iannelli intende incontrare anche i comitati residenti della zona per provare a ridimensionare lo scontro sociale che è in atto da anni. L'unica soluzione tuttavia resta la delocalizzazione dell'impianto. Per me potrebbe addirittura restare nel territorio di Salerno quella fabbrica, perché se noi costruiamo una fabbrica nuova con tecnologie moderne ad impatto zero, addirittura considerato tutto il lavoro che c'è intorno ad una fonderia, essendo una fonderia di seconda fusione e quindi rientrerebbe pienamente nell'ottica del riciclaggio, si potrebbe creare un polo meccanico e quindi aumentare anche i posti di lavoro.